Abbiamo conquistato l'obiettivo Alfa. Questa granata è tutta per loro! Controlliamo tutti gli obiettivi! Questa granata è tutta per loro! Questa granata è tutta per loro! Questa granata è tutta per loro! L'obiettivo è sotto attacco! Dobbiamo fermarli! Abbiamo perso l'obiettivo Alfa! L'obiettivo c'è. L'obiettivo c'è. Stiamo perdendo l'obiettivo alfa. Abbiamo perso l'obiettivo alfa. Ecco qui, cassetta medica. Stiamo perdendo l'obiettivo alfa. Stiamo perdendo l'obiettivo.